Il presidente della regione Renato Schifani ha scritto oggi a due compagnie aeree per conoscenza all'Enac per chiedere di intervenire il prima possibile sulla frequenza dei voli da e per la Sicilia per calmierare le tariffe soprattutto in vista delle prossime festività pasquali. Nella condizione di insularità infatti, il trasporto aereo riveste un ruolo strategico fondamentale per garantire la continuità territoriale e la mobilità dei suoi abitanti e non secondariamente ai fini dello sviluppo di una delle più rilevanti leve economiche per la regione, il turismo. Il governatore ha inteso così proseguire nella sua battaglia a tutela dei diritti dei cittadini siciliani, si legge nella nota. Dopo aver sottolineato che si assiste già in prossimità della Pasqua ad una ridotta disponibilità di biglietti aerei nei voli operati e ad un incremento vertiginoso delle tariffe, il presidente Schifani, in attesa dell'esito del noto esposto all'antitrust, tendenti alla riduzione del costo dei biglietti aerei e ad un incremento della frequenza dei voli, attraverso il quale potrebbero anche essere compensate le riduzioni delle tariffe, cercando in questo modo di coniugare il legittimo interesse economico e l'altrettanto legittimo interesse dei cittadini.